E ora che facciamo sto? Si va alla polizia! Oh no, col cazzo che ci andiamo! L'hai sentito quello là? Gli spappolo il cervello, ha detto! Ciao, è una disgrazia! È stata una disgrazia fin da quando l'abbiamo incontrato! Quindi ora lo consegniamo a questo Marshall e finisce così! Phil! Alan, non ora! Ma ho bisogno di testo, non posso farlo da solo! Che vuoi fare da solo? Non abbiamo neanche idea di dove si trova! Phil! Come te c'è Alan? No, è che l'altro giorno mi è arrivata una strana mail, non ho capito bene, ma a pensarci potrebbe essere di ciao! Pansone, è bello essere libero, siamo vicini, non dire a nessuno, mi faccio vivo, ciao! Qui dice ciao! Come hai fatto a non capire che era di ciao? Là per là ho pensato che ciao fosse un saluto, cioè ciao, arrivederci, ci vediamo, stammi bene... Ora gli rispondo! Fermo, fermo, aspetta un secondo! Gli scrivo che sei felice che è fuori e che vorresti vederlo! Quanto vorrei vederlo! Ma almeno hai capito che sta succedendo? Sì, certo, Stu! Phil fa tutto il lavoro, io faccio il suo assistente, tu fai l'idiota! Per il bisogno! L'impressione, non ci vedi poco dentro, ma a trevo